Se vuoi visitare la vera casa di Babbo Natale, l'appuntamento obbligato è a Grosseto con la terza edizione di Alcassio Re Natale. Organizzato dalla istituzione Nemura del Comune, la novità di quest'anno è la presenza nei sotterranei della fortezza del Grinch, il gatto con il cappello che si aggirerà nel villaggio e farà di tutto per sabotare il Natale. I bambini presenti nella magica piazza del Pozzo dovranno escogitare stratagemmi utili per impedirglielo. Ma a regalare momenti indimenticabili ci saranno molti altri personaggi, tra cui Aurora, la regina delle nevi, che accoglierà grandi e piccini nel suo bosco ghiacciato per raccontare storie fiabe fantastiche. Sgambetto, l'elfo maggiordomo di Babbo Natale che vive nella sala della slitta, farà firmare ai bambini il grande libro dei nomi, conservato nella casa di Babbo Natale, che li aspetterà nel suo scintillante salotto per una bella foto ricordo. Ma c'è di più, l'elfo Nottolone intratterrà i bambini nella camera di Babbo Natale per raccontare storie della buonanotte, mentre Madame Svaporine accoglierà i visitatori per introdurli nel magico mondo del Natale. L'elfa Pennellina sarà invece nella sala degli specchi magici per truccare i bambini, mentre gli elfi Letterina e Stellina permetteranno di scrivere le letterine a Babbo Natale direttamente nel suo ufficio postale. Nell'officina degli elfi, invece, si effettueranno laboratori natalizi con gli elfi Campanellina e Zuccherina. In alcune giornate speciali sono previsti piccoli spettacoli di magia, mentre in una galleria della Fortezza sarà possibile visitare un'esposizione di modelli in cartapesta, raffiguranti antichi borghi medievali toscani.